Martedì 13 giugno, Sant'Antonio di Padova. Il 164esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 201 al termine. Il sole sorge alle 5.21 e tramonta alle 21. La luna si leva alle 23.48 e tramonta alle 8.48. Nell'anno tredicesimo del suo principato, tra il cordoglio generale, muore a Costantinopoli il grande doge Enrico Dandolo. Viene solennemente sepolto nella cattedrale di Santa Sofia. Le previsioni per domani. In pianura, in prevalenza poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso al mattino, specie sulle zone più interne. Sulle zone montane e pedemontane, condizioni di instabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti, probabili rovesci e temporali già nel corso della mattinata su zone montane e pedemontane. Non esclusi i fenomeni anche in pianura. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali in quota, brezze nelle valli. In pianura, deboli moderati dai quadranti orientali.